Il Signore Dio ha dato agli uomini una capacità che fossero una sola famiglia e si trattassero tra di loro come fratelli. Gesù nel Vangelo, quando prega il Padre, fa un'affermazione molto forte che supera la ragione umana ed apre orizzonti insperati. Gesù nel Vangelo dice In effetti Gesù cosa dice? Che la comunità umana in genere, la comunità familiare, la comunità del quartiere, cioè lo stare insieme tra l'uomo e la donna e la natura deve avere una vita interiore così forte di comunicazione, di affetto l'uno per l'altro come Dio Padre per il figlio e il figlio per il padre. Un parallelo incredibile, ma come noi possiamo metterci a imitare Dio Padre e Dio Figlio? Sì, Gesù ci è venuto su questa terra proprio per darci indicazioni precise di come noi dobbiamo vivere questa intimità umana nel cammino di una imitazione divina. L'uomo è un essere eminentemente sociale, ma spesso si manifesta individualista perché stima solo gli interessi personali di famiglia, di nazione, di partito, di gruppo sociale. Il bene comune, poi, e questa è una cosa che è necessario precisare, anche se può dispiacere, il bene comune richiede a ogni uomo che abbia tutto ciò che gli è necessario, dal vestito, al mangiare, all'abitazione, al lavoro, alla formazione, al rispetto della persona. Ma con questi elementi positivi ci sta anche la parte negativa, per cui dice forse non troppo piacerà, in quanto che le differenti capacità fisiche, intellettuali e morali, come pure quelle economiche e di religione, di razza e di colore della pelle, non autorizzano alcuna discriminazione tra i membri della famiglia umana. Nella realizzazione del bene comune è normale che vengano richiesti sacrifici, come tasse, contributi, eccetera, ma è necessario che questi sacrifici siano orientati al bene della persona. Gli elementi che fanno il valore di un paese non sono la potenza economica, non è la politica militare, ma la giustizia e la fraternità. Padre Pio, secondo il detto di San Francesco di Assisi, che dice Mente in cielo e occhi in terra, ha applicato questo principio di avere la mente sempre verso l'alto, verso Dio e studiare Dio, vedere Dio come si è comportato in Cristo, come Cristo ha vissuto la sua missione sulla terra, a favore dei poveri, a favore degli ammalati, alzando la voce contro chi commetteva ingiustizie, perché è la parte anche molto bella e positiva dell'azione di Gesù, non di mettere soltanto, coprire col panno della misericordia, ma gridare che bisogna compiere anche le opere di giustizia. Quindi Padre Pio cammina sempre con la mente in cielo, ma guarda a terra e che cosa vede? Vede la povertà della zona, vede che non ci sono le scuole, che non ci sono le strade, non ci sono le comodità necessarie per una vita sociale e fa sorgere un ospedale, crea delle scuole, crea una scuola di professionale che è impensabile per quei tempi. Quindi Padre Pio ci dà la testimonianza di vivere secondo il cuore di Dio.